Ben ritrovati, in questa video lezione ci concentriamo su uno dei più grandi personaggi della letteratura italiana del 500, Niccolò Machiavelli e il suo principe. Con il principe di Machiavelli il trattato abbandona le forme della dissertazione filosofica e scientifica per adottare la forma del saggio, la forma del saggio in cui l'autore sostiene e sviluppa una soveredità individuale, assumendone consapevolemente la responsabilità. Il principe di Machiavelli sono delle opere più scandalose della storia e si può dire che con Machiavelli venga fondata la moderna scienza politica. L'opera di Machiavelli è scandalosa fondamentalmente per due motivi. Il primo scandalo del principe sta nell'assoluta spregiudicatezza del suo autore, che fonda l'autorità del proprio testo solo sulla forza del proprio pensiero e della propria scrittura. Il secondo scandalo, forse quello più grande, sta nel fatto che per Machiavelli la morale del principe dipende dal successo della sua azione politica e dunque viene fatta coincidere con la sorte stessa dello Stato. La politica diventa quindi un campo autonomo tanto dalla religione quanto dalla morale. La diffusione e la fortuna del pensiero di Machiavelli hanno diciamo provocato anche una distorsione del suo pensiero, tanto che se cerchiamo in rete, sul web, associato a Machiavelli troveremo la frase il fine giustifica i mezzi. È una frase che Machiavelli non disse mai, non si trovava mai nelle sue opere e in realtà viene attribuita continuamente al segretario fiorentino. Legato appunto a Machiavelli sono due parole, un sostantivo machiavellismo e un aggettivo machiavellico. Con machiavellismo si intende diciamo un atteggiamento che è volto a legittimare dei comportamenti cinici e amorali con il solo al fine di conquistare e conservare il potere. Machiavellico di converso indica ciò che si ispira dai principi di amoralità, di cinismo, di doppiezza, quindi dare una parola e non mantenerla e vengono tradizionalmente attribuiti al pensiero di Machiavelli. Treccani indica come sinonimi di machiavellico, intrigante, astuto, spregiudicato. È una interpretazione fondamentalmente negativa di Machiavelli che comincia a circolare a partire dal Cinquecento, avvalorata diciamo anche da una confraternita che è quella dei gesuiti. In realtà abbiamo visto che la formula il fine giustifica i mezzi non compare mai nei suoi scritti. In realtà poi nel Novecento un critico, Giovanni Macchia, dirà che il machiavellismo, inteso proprio come arte della dissimulazione e dell'astuzia, si filtrò al di fuori di una corretta e diretta influenza dei testi, tanto che diciamo divenne una coscienza comune, una nuova visione dei rapporti umani. Piuttosto che essere infatti un descrittore neutrale, d'accordo, della politica o un puro scienziato specialista della politica, Machiavelli è diciamo una sorta di antropologo. Considera in maniera globale il comportamento umano, lo sottopone a una sua interpretazione. La sua visione è fondamentalmente pessimistica dell'uomo, un'antropologia negativa. L'uomo, per Machiavelli, è responsabile di una progressiva e inevitabile corruzione dei costumi. Ma come Machiavelli vita e letteratura sono strettamente legate e dunque è fondamentale riuscire a diciamo delineare dei tratti essenziali, tenendo presente che la data diciamo che fa da spartiacco nella vita di Machiavelli è il 1512. In questa data infatti, quando tornati in medici a Firenze, Machiavelli deve abbandonare i suoi impegni politici, che dal 1498 fino al 1512 l'avevano portato a ricoprire importanti incarichi nell'amministrazione della Repubblica Fiorentina. Machiavelli nasce quindi a Firenze, il padre era appunto Bernardo, un uomo di legge, e la madre invece era Bartolomea De Nelli. Il padre gli fece impartire una buona formazione politica fondata però sui classici latini. Ignorava infatti il greco. Riceve una formazione appunto umanistica e non si hanno notizie particolari della sua gioventù e legge appunto i classici. Fino al 1498 è nominato come segretario della seconda cancelleria del comune di Firenze. Infatti dopo il 1498, quando cade il Savonarola, Machiavelli, che era ostile tanto ai piagnoni, che erano i seguaci delle frate, ma non si identificava neanche nei palleschi, che erano i sostenitori dei medici, viene nominato come responsabile della seconda cancelleria, quella che si occupava diciamo dell'attività militare e democratica. E poi anche segretario delle Dieci di Balia, che era un organo preposto alla politica estera della Repubblica. Comincia quindi la sua attività politica. Attività nella quale riesci a mettere in patica quelli che erano stati i suoi grandi autori di riferimento, che sono fondamentalmente due. Il primo è Lucrezio. Infatti negli anni che vanno dal 1495 fino al 1496, è già un'opera molto importante, il De rerum natura, cioè sulla natura delle cose, di Tito Lucrezio Caro. Il manoscritto è conservato ora alla Biblioteca Vaticana, quindi a Roma, e rileva le basi materialistiche legate all'epicureismo della formazione di Machiavelli. In quest'opera è noto l'autore latino, un poeta, metteva in versi l'ostica dottina di Epicuro, che era improntata, legata, un materialismo e un ateismo che escludeva la divinità dalla sfera umana. Non solo, in questa fase legge Cicerone, prima del vecchio, ma soprattutto la Burbe Condita di Tito Livio, che sarà un'opera di appoggio per, diciamo, il capolavoro da Poliprincipe, che sono i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. La Burbe Condita, infatti, nel Cinquecento ormai circolava in epitomi, cioè in riassunti, e nella prima decade che Machiavelli legge e da cui trae ispirazione per appunto i suoi discorsi, lo storico padovano tratteggiava le origini di Roma, dalla Repubblica, dalla monarchia scusate, fino al passaggio della Repubblica, che avvenne, come vi ricordate, nel Cinquecento nove, quando viene canciato appunto tra cui il Superbo e vengono eletti i primi due consoli. Abbiamo detto quindi che dal 1498 fino al 1512 interprende la carriera politica nella cancelleria fiorentina. In questa veste scrive tantissimi dispacci, relazioni, che sono appunto, ad esempio, del modo di trattare i popoli della Val di Chiana Ribellati, oppure il ritratto delle cose di Francia. Infatti, in questa fase, che è una fase molto importante, come principale collaboratore del gonfaloniere Pier Soderini, appunto, partecipa a importanti missioni diplomatiche all'estero, Francia, Svizzera, Germania, ma anche nelle corti italiane, occupandosi in particolar modo della guerra contro Pisa e delle lotte di fazione a Pistoia, cercando anche l'alleanza con Papa Giuliano II. È in questa fase che conosce anche Cesare Borgia, il Duca di Romagna, del quale tratteggerà un mirabile profilo nel suo principe. Cesare Borgia, detto il Duca Valentino, perché è Duca di Valentinoise, l'antica provincia della Francia, era uno spregiaticato modello di principe, e scompare nel 1507, e viene proposto nel principe come modello di principe nuovo, cioè come quella tipologia di principi che diventano tali se non stati prima dei privati cittadini. Egli, Cesare Borgia, era inoltre l'emblema di coloro che avevano acquistato il principato con le armi altrui, nel caso di Borgia, le armi francesi, e anche grazie a delle circostanze favorevoli della fortuna, che è un concetto chiave di Machiavelli. Infatti Valentino, per il Valentino, era la fortuna quella di essere figlio del Papa Alessandro VI. In questa fase si occupa soprattutto del problema delle milite cittadine, spingendo appunto per un arruolamento delle stesse appunto al posto dei soldati mercenari. Però nel 1512, con la sconfitta delle truppe dell'ordinanza, la Repubblica Fiorentina cade, e di conseguenza i medici tornano a Firenze. Machiavelli è costretto a ritirarsi all'arbergaccio, un quartiere appunto in Sarcasciano, a una decina di chilometri da Firenze. Nel 1513 viene addirittura arrestato, torturato, per aver partecipato, secondo i medici, a una congiura antimedicea. In questa fase cominciamo già a deniarsi i temi fondamentali della produzione di Machiavelli, tra cui appunto le milizie. Per quanto riguarda le milizie, lui si fonda da una parte l'interesse dello storico, in particolar modo il lettore di Tito Livio, e dall'altra parte il suo impegno nella Repubblica Fiorentina. Infatti, come appunto legge nelle storie di Tito Livio, la Repubblica Romana aveva dei cittadini, un sacer cittadino, che era appunto arrolato per censo. In questa teoria, in questo tema delle milizie, è un po' un fil rouge della sua produzione. Viene espresso nei discorsi dell'ordinanza, nel capitolo 12 del principe, nei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, e anche nell'opera molto interessante dell'arte della guerra. In queste opere, e in questi passi, si scaglia contro le milizie mercenarie, ed è favorevole all'arrolamento di uomini della campagna, per creare un esercito cittadino. Infatti, la sua tesi è che le truppe mercenari siano appunto deboli, e siano diciamo uno dei motivi, secondo Machiavelli, della debolezza dell'Italia, che l'hanno fatta diciamo capitolare sotto le armate straniere. Le truppe mercenarie sono inutili, sono indisciplinate, e sono anarchiche, e appunto sono anche litigiose, e quando la battaglia volge appunto al peggio, si ritirano dallo schieramento. Egli è invece per la creazione di un esercito repubblicano, in modello appunto all'antica Roma, dove l'arrolamento, come detto in precedenza, veniva per censo. Quindi, presupposto per la creazione di uno stato forte, è quello di coinvolgere i cittadini nell'ambito militare. Va anche detto che il principe venne scritto in un momento in cui l'arte della guerra sta subendo varie modifiche dal punto di vista tecnologico. Infatti, sono mai evidenti i cambiamenti introdotti dalle armi da fuoco, che erano sconosciute fino a qualche anno prima. A San Casciano si dedica appunto all'opera, alla stesura, scusate, delle sue opere maggiori, che sono il principe e i discorsi sopra la prima decadito Livio. Secondo alcuni sarebbero contemporanei, mentre secondo altri i discorsi sarebbero astristesi, diciamo, tra il 1516 e il 17. A partire poi dal 15, quindi due anni dopo, la sua, diciamo, reclusione diventa meno rigida, comincia a riprendere, a rifrequentare Firenze e a parte ci si fa anche le riunioni degli orti oricellari. E il cardinale, appunto, giuro dei medici, gli consente, anzi, gli affide il compito, un compito molto importante, ciò che lo descrive una storia di Firenze, le storie fiorentine. Sono un'opera, appunto, che narra le vicende di Firenze dal 1215 fino al 1492. Nel 1525 gli vengono riassegnati degli incarichi politici ufficiali, ma nel 1527, dopo il sacco di Roma, del maggio del 1527, in cui c'era la carata dei Lanzi Chenecchi di Carlo V, appunto, in Italia, Firenze caccia i medici e torna al regime repubblicano, il quale si manterrà soltanto per tre anni, perché nel 1530 i medici ritorneranno poi al potere. Machiavelli è accusato di aver collaborato con i medici e viene di nuovo esonerato da ogni incarico politico e muore nel 1527. Viene sepolto poi nella Basilica Francescana di Santa Croce, a Firenze, tra i grandi pensatori della modernità, e infatti va ricordato nel Carme dei Sepolchi da Ugo Foscolo. Quindi la produzione di Machiavelli è una produzione, diciamo, multiforme, che si può però dividere fondamentalmente in tre parti. Da una parte abbiamo gli scritti legati all'attività politica, detti, diciamo, minori, di spacci, relazioni di guerra, relazioni diplomatiche. Parliamo delle opere di carattere storico, quindi il principe e, appunto, il discorso di Torivio, ma anche l'arte della guerra, e parliamo dei testi propriamente letterari, perché diciamo che Machiavelli è anche appassionato di letteratura, si forma sui classici latini, sulla comedia di Terenzio, e tre opere, La Mandragola, Clizia e la novella, appunto, Belfagora ci diavolo, se li fanno, appunto, questa tradizione, a questa tradizione sboccata. Egli, nella sua produzione, parte sempre dalla verità effettuale, rifiutando la verità di mezzo, di scegliere fra due estremi, ma questo richiamo alla verità effettuale non si può però scollegare dal richiamo ai classici. Infatti, secondo Machiavelli, la storia è sempre magistra vita, è sempre maestra di morale. Anche se, in realtà, come abbiamo visto precedentemente, c'è una scissione fra politica e morale, che seguono due ambiti e due percorsi differenti. Vediamo ora quella che è la sua poetica, le sue idee. Allora, Machiavelli viene solitamente identificato come il fondatore della moderna scienza della politica e, secondo un grande storico, che è appunto Federico Chabot, il principe sarebbe l'opera più letta e discussa, esaltata, vituperata, amata e odiata dalla letteratura politica di tutti i tempi. Questo piccolo volume, che appunto Machiavelli definisce come ghiribizzo, dà una grande svolta al modo di intendere la politica. La politica viene considerata, infatti, una dimensione autonoma e indipendente dalla morale. La storia ha un valore propedeutico, quindi è una miniera di grandi esempi da cui si possono ricavare delle informazioni, ma, dal momento che il comportamento umano è fondamentalmente un comportamento irrazionale, si possono sì dare delle ipotesi, identificare delle costanti che attraversano il tempo, ma, in realtà, l'uomo, l'appetito umano è condizionato da appetiti e umori, che culminano fondamentalmente in quello che è il desiderio di potere. La storia è ciclica, come dirà più avanti Vico, e alla base c'è comunque una visione dell'uomo estremamente negativa, d'accordo? Le azioni umane vengono appunto dettate dagli impulsi istintivi, istintivi, e lo stato è sua volta visto come un organismo naturale, che nasce, si sviluppa, ha il suo, diciamo, apogeo, e poi comincia a declinare, riprende infatti la teoria dell'anaciclosi di Polibio. Da questo ragionamento sull'efficacia degli esempi del passato, discendono due considerazioni. In primo luogo che, dallo studio dei casi particolari, quelle di epoche lontane e quelle più vicine nel tempo, è impossibile dedurre delle regole generali su cui fondare la moderna scienza della politica. Da un lato, si vuole rendere la politica un ambito autonomo da considerazione di carattere etico e religioso. L'agire politico è dunque analizzato ed è scritto non per quello che dovrebbe essere, ma per quello che è, secondo il principio della verità, effettuare. Quindi il principe. Il principe è il capolavoro. Qua vedete un'immagine di Cesare Borgia. È il capolavoro della produzione di Machiavelli. È un testo molto breve. È un trattato o un saggio di 26 capitoli. Perché dico trattato e perché dico saggio? Perché ha degli elementi del saggio. Infatti, del saggio, l'opuscolo di Machiavelli riproduce la tensione argomentativa di tipo scientifico. Ma, dall'altra parte, è un trattato, nel senso che segue un intento espositivo, che è centrato sul complesso di una dottrina, quella politica nel caso di Machiavelli, che viene discussa poi in modo sistematico, per blocchi ben definiti. Machiavelli è dedicato a, ora, inizialmente, Machiavelli voleva dedicarla a Giuliano dei Medici. Ma, forse, dopo la morte di Giuliano, che venne nel marzo del 1516, la dedica fu indirizzata Lorenzo De Piero dei Medici, che era il duca di Urbino. Struttura e tematiche. Si divide fondamentalmente i sei blocchi. I capitoli 1-11 hanno, diciamo, come tema i principati nuovi, che sono il momento di fondazione di uno Stato. Nel capitolo 12-14, invece, Machiavelli si concentra sulle milizie, che sono, diciamo, il motivo della forza o della debolezza di uno Stato. Nei capitoli 15-19 si ragiona sui vizi e sulle virtù dei principi, facendo riferimento anche alla famosa immagine della volpe e del leone. Nei 20-24 si considera la situazione dell'Italia, mentre nei capitoli finali, che sono molto importanti, il 25 e il 26 si tematizzano due argomenti molto importanti, che sono la fortuna e, nell'ultimo, l'esortazione ai Medici per liberare l'Italia dallo straniero. Appunto, è un problema a definire il genere letterario del principe. È sicuramente un opuscolo, è un'opera molto breve. È un ghiribizzo, un'idea fulminante e stravagante, infatti viene composto dal luglio al dicembre del 1513. È un saggio, appunto, perché riproduce una tensione argomentativa, ma è un trattato perché segue un intento espositivo. Qual è il modello di quest'opera? Beh, sicuramente sono alcune opere che circolavano, appunto, in epoca letterale, cioè gli specula principis, cioè gli specchi del principe. Ad esempio, il De Regimine Principum di Egidio Romano, ma anche, appunto, il De Principe di Pontano, che era dedicato al principe Alfonso di Calabria. Il principale spalla, infatti, una ricca trattatistica medievale e umanistica, relativa all'arte di governare. È un genere, appunto, codificato, lo speculum principis. Allora, temi e motivi dell'opera. L'esplicità, molto bene, è la famosa lettera Vettori del 10 dicembre 1513. L'opera è dedicata a che cos'è principato, di quali specie sono, come si acquisiscono, come si mantengono e perché si perdono. L'opera, appunto, vede una indipendenza della politica rispetto alla morale e analizza diverse tipologie di principato ereditario, misto, ecclesiastico e nuovo. Per quanto riguarda il principato ecclesiastico, tende a dire che non conosce le ragioni della sua creazione e le loro motivazioni e le loro dinamiche sfuggono all'operato umano e sono intesi soltanto dal divino. In quest'opera, poi, enuncia una categoria, la categoria del principe nuovo, che viene, diciamo, svincolato da ogni obbligo di tipo morale. E l'ideale è, appunto, Cesare Borgia. La fortuna è un altro tema molto importante della produzione di Machiavelli. Riguarda, appunto, il rapporto tra la fortuna e la virtù. La virtù è la capacità politica del principe, il suo ingegno, la sua dacia, il suo valore. La fortuna, invece, non è più, come diceva Dante, ministra di Dio. E non è neppure laica. E non è neppure, diciamo, la fortuna intesa come boccaccio. È, in realtà, un concetto vicino a quello di boccaccio, ma trasposto all'ambito politico. La definisco in questo modo. La fortuna è la componente, diciamo, esterna, indeterminata, enigmatica, che contrappone, che si contrappone all'uomo nelle vicene sulla terra. Secondo Machiavelli, e lo scrive, la fortuna è arbitra della metà delle azioni nostre, ma ne lascia governare l'altra metà oppresso a noi. Degnazione, il principe può determinare, quindi almeno in parte, attraverso la virtù, l'esito. E la virtù non è vista come una qualità morale, ma come la capacità tecnica di esercizio del potere, politico e militare. E nel capitolo 25, il penultimo, c'è una bellissima immagine, in cui la fortuna viene paragonata a una sorta di fiume rovinoso, che allaga le pianure dell'Italia, devastando gli alberi, e dovette soccombere alla fortuna, ovviamente, il duca Valentino, per appunto la morte del papa, suo padre. L'ideale è appunto il famoso Cesare Borgia. Nel capitolo 18 rovescia, diciamo, dal punto di vista tradizionale, secondo la quale le caratteristiche del principe, del governante ideale, erano la fedeltà e la lealtà. In realtà, i tempi presenti ci fanno appunto capire come hanno avuto grande fortuna con i principi che non sono curati di mantenere la parola data. La lealtà che in latino, se vi ricordate, era la fides. Hanno avuto maggiore fortuna quei principi che hanno agito con furbizia, oppure con consapevole malafide. E riprendendo la riflessione che aveva appunto fatto Cicerone nel suo De Officis, ma che aveva desiderato due modi di combattere, quello dell'uomo e quello della bestia. L'uomo dovrebbe, diciamo, seguire le leggi. Ma quando queste non bastano, può ricorrere neanche la violenza. Ricorre infatti a un mito di ascendenza classica, il mito del centauro Chirone, che ammaestrò Achille. E per prendere due immagini dalla mitologia e dai bestiari che circolavano ancora ampiamente nel Rinascimento, il principe, in certe occasioni, per riuscire a gestire e a mandare avanti lo Stato, deve utilizzare la condotta dei due animali, la volpe e il leone. La volpe è quindi l'immagine dell'astuzia, di chi simula un comportamento, e dall'altro il leone, la forza brutale. E, secondo alcuni, questa descrizione che Machiavelli fece del principe non fu un modo per dire al principe come comportarsi, ma ai popoli come badare bene al fatto che non andasse al potere un principe di queste caratteristiche. È l'interpretazione che di Machiavelli fa Ugo Foscolo nella famosa opera Dei Sepolcri, dove scrive «Vidi ove posi il corpo di quel grande, che temprando lo scetto ai regnatori, gli allorne sfronda, e dalle genti svela, di che lacrime grondi e di che sangue». È l'interpretazione obliqua di Machiavelli. Nel camme dei Sepolcri si passano in rassegna i grandi italiani, e secondo, appunto, Foscolo, il principe non sarebbe stato destinato al principe, bensì al popolo, bensì al popolo. Doveva dare, appunto, consapevolezza al popolo italiano di, appunto, quali governatori lo stavano, appunto, reggendo. E Machiavelli avrebbe avuto, diciamo, un intento democratico, più che monarchico. Machiavelli viene, appunto, collocato tra i fondatori dell'Italia, tra i patrioti quasi originari della nazione italica, insieme ad altri autori come Galileo e Michelangelo. Per concludere le altre opere di Machiavelli, beh, sicuramente da ricordare i discorsi sopra prima decada di Tito Livio, che è un trattato in tre libri, in cui si analizza, diciamo, la Roma Repubblicana, e poi si affrontano altri temi tipici della produzione di Machiavelli, Virtue e Fortuna e Milizia. L'Atto della Guerra, in cui ritorna ancora il problema delle milizie mercenare, e poi le storie frentine, che sono invece un'opera storiografica, e la Mandragola, che è invece una commedia in cinque atti, in cui, appunto, si riprende, diciamo, tutta una serie di temi della tradizione umoristica e anche vari tratti della produzione di Boccaccio. Molto interessante è confrontare il Principe con gli discorsi. Allora, il Principe è un'opera che viene, diciamo, scritta di getto fra il luglio e il dicembre del 1513. Nel discorsi, secondo alcuni, vennero cominciati nel 1513 e poi ripresi, elaborati nel 1517, che è inclusi, diciamo, un anno dopo. La struttura unitaria nel Principe, cioè la dedica, e poi 25 capitoli, che si chiudono con l'esortazione finale ai medici per liberare l'Italia. Mentre invece i discorsi sono più un'opera che non è unitaria, è un'opera piena di divagazioni, a parte da un testo base, un testo d'appoggio, la Burghe Condita di Tito Livio. Per il Principe avevano quei modelli, gli Specula Principis, dall'altra parte invece Livio, Plutarco, Polibio. Il PC era molto breve, 25 capitoli, preceduti da un titolo appunto sintesi in latino, nati i discorsi, che sono invece composti da 142 capitoli, a cui si aggiunge una lettera dedicatoria ai due destinatari, che sono Zanomibon del Monte e Cosimo Lucella e poi c'è un proemio. Il Principe è un'opera in cui si pone il problema di fondare uno stato nuovo. E ciò secondo Machiavelli può avvenire soltanto per la virtù di un principe nuovo. Mentre i discorsi si focalizzano invece sul problema della durata di uno stato già esistente. Sono diverse anche i dedicatari. Da una parte abbiamo Lorenzo De Piero dei Medici, ma in realtà questa dedica a Lorenzo De Piero dei Medici non ebbe l'effetto sperato, perché i medici non accolsero i suoi suggerimenti di Machiavelli e continuarono a ignorare l'autore. Mentre invece i discorsi sono un'opera dedicata a Ruccellai e Bonte del Monte e risentono della frequentazione di questo ciclo culturale fiorentino, gli orti oricellari e sono un'opera, per così dire, repubblicana. Il governo di Roma, il governo appunto in cui si bilanciavano appunto Senato e Popolo, è appunto visto come un modello di riferimento e la Repubblica Romana, per appunto il bilanciamento dei poteri, è visto come lo Stato con il regime migliore. Bene, ho concluso. Spero di avervi, diciamo, introdotto in maniera efficace e breve un autore veramente importante e interessante nel parma della nostra letteratura italiana, Niccolò Machiavelli. Arrivederci e alla prossima video-lezione. Ciao a tutti!